Resta centrale nella scena politica la questione della casa di cura arcense Eremo. Ad intervenire sul tema è Nerio Giovanazzi, che offre una versione completamente diversa rispetto a quella di ieri del collega consigliere provinciale Luca Giuliani. Non so che notizie abbia Giuliani per mandare un segnale di questo tipo, scrive in una nota. Io per la verità ho notizie diverse. Ai dipendenti consiglierei, se vogliono dormire tranquilli, di prendersi una forte dose di camomilla. Ritengo la posizione del consigliere autonomista tesa a distribuire anestetico con il fine di salvaguardare l'immagine della maggioranza che governa questo Trentino ed il suo partito in particolare. Qualche giorno fa in aula ho avuto modo di ricordarli che gli interessi della comunità devono anteporsi a quelli del proprio partito di appartenenza. La situazione attuale non permette ai proprietari della struttura di attuare un importante investimento relativo all'ampliamento che si rivelerebbe di grande importanza per l'imprenditoria locale. Giovanazzi poi prosegue con decisione. Fino ad oggi sono sempre stato zitto ed ora non ce la faccio più. Ho letto affermazioni infondate e credo che la stessa amministrazione locale, con il sindaco in testa, sia disponibile, qualora non si trovasse una soluzione, ad assumere iniziative tali da salvaguardare l'occupazione, gli investimenti e la promozione dell'immagine dell'eremo di Arco, che assieme a altre case di cura, conclude il consigliere di amministrare il Trentino, concorrono alla promozione dell'immagine del nostro territorio. Grazie.